Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortoniato donzia, dirige uno staff altamente professionale, che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio, sempre con il professor Antonicelli e il dottor Menditto, per parlare delle malattie infettive del cuore e come di consueto nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Iniziamo da lei, il professor Antonicelli. Abbiamo Rossano di Polverigi che dice Ho letto che la cocaina e le anfetamine possono provocare infezioni al mio cardio. E chiede, è vero? Sì, quando prima ho parlato di attenzionare certe abitudini, ed ero stato un po' sul vago, in realtà mi riferivo proprio a questo, ovvero sia l'utilizzo di sostanze stupefacenti, anche le modalità di utilizzare queste sostanze possono danneggiare il cuore. Per cui approfitto per un invito proprio a maneggiare con cura certe cose che fanno male, come sappiamo, al cervello, ma possono danneggiare gravemente anche il cuore. Questo è qualcosa a cui spesso non si pensa. Poi abbiamo Luca Diascoli Piceno che chiede I portatori di protesi valvolari sviluppano spesso endocarditi infettive e che fare? Ecco, in questi termini la domanda è un po' terroristica, ovvero sia fortunatamente non sviluppano spesso. Diciamo che avere una protesi è un fattore che espone maggiormente a questo rischio, per cui è necessario che coloro i quali sono portatori di protesi stiano un po' attenti a determinate situazioni, in particolare quando ci possono essere degli interventi di chirurgia odontoiatrica, chirurgia ginecologica, chirurgia ortopedica. Ecco, queste situazioni possono in qualche modo esporre una persona predisposta all'insorgenza di queste patologie. Bene. Dottor Menditto, abbiamo Lucia Diosimo che chiede Le febbre reumatiche possono essere causa di miocarditi? Allora, la malattia reumatica, sì, può dare un interessamento del cuore in tutti i suoi spessori, dalla endocardite, alla miocardite, alla pericardite. La cosa più importante, fortunatamente oggi, grazie all'utilizzo di antibiotici, sono quasi scomparse questo tipo di patologie, sono gli interessamenti a lungo termine delle valvole dovute alla malattia reumatica, che possono portare soprattutto delle stenosi a livello della valvola mitralica o della valvola ortica. Poi abbiamo Paola di Civitanova Marche che chiede Come diagnosticare una miocardite? L'elettrocardiogramma è sufficiente? Allora, sufficiente no, perché come dicevo prima l'elettrocardiogramma può essere o totalmente normale oppure avere delle alterazioni che però non sono specifiche per la miocardite. Possono essere simili a quelle che si trovano nell'infarto, ad esempio. Quindi la diagnosi viene fatta mettendo insieme tutti i presidi di diagnostica strumentale che abbiamo. Dopo abbiamo Simone di Macerata che dice Dopo aver avuto il Covid ho affaticamento, respiro affannoso e leggero gonfiore agli arti e chiede, devo controllare lo stato del cuore? Beh, questi che descrive possono essere sintomi dello scompenso cardiaco, cioè una fatica a respirare, soprattutto quando si fanno gli sforzi, e il gonfiore che viene definito edema, che solitamente si inizia alle parti più declivi del corpo, quindi dalle caviglie e poi andando in su. Quindi sicuramente un controllo completo, cardiologico, comprensivo anche di un'ecografia, è meritevole. Poi abbiamo Giorgia Liancona che dice Sono costretta a fare chemioterapia. Da ragazzino ho avuto un problema di aritmia cardiaca e chiede che precauzioni devo dunque prendere facendo la chemio. Posso stare tranquilla? Chiede. Allora, i farmaci chemioterapici purtroppo in alcuni casi si associano a una tossicità cardiaca proprio dovuta al farmaco stesso, per cui in base al tipo di farmaco che sta prendendo ci sono dei protocolli che prevedono delle valutazioni cardiologiche, soprattutto sempre con l'ecografia, perché il danno che danno spesso sono appunto delle riduzioni della funzione contrattile del cuore, quindi fare un'ecografia periodica basata sul farmaco chemioterapico che sta assumendo. Poi abbiamo Sauro di Macerata che dice Sono stato operato, anni fa sono stato operato al cuore per una endocardite e chiede, devo osservare delle precauzioni? Come diceva prima il professor Antonicelli, se è stato operato e soprattutto se l'endocardite è stata corretta con l'inserimento di una protesi al posto di una valvola nativa, ci sono appunto tutte quelle condizioni che mettono a rischio comunque di avere un'introduzione di germi nel sangue e quindi che si possano attaccare a queste protesi che vanno prevenute, ad esempio con l'assunzione di un antibiotico prima di un evento invasivo, come può essere una cura dentaria, una procedura interventistica. Bene, professore Antonicelli, abbiamo Elisa di Montegiorgio che chiede, una semplice influenza può far scatenare complicanze con infiammazioni al cuore? Sì, lo abbiamo detto prima, effettivamente l'influenza, il virus dell'influenza è coinvolto, può essere coinvolto in queste patologie cardiache, può essere coinvolto nella miocardite, nella pericardite e come dicevo prima, attualmente la nostra attenzione si è tutta concentrata sul SARS-CoV-19, ma l'influenza per moltissimi anni, tuttora, dà questi problemi. Per cui la risposta è sì, può senz'altro darli. Allora, poi abbiamo il professore Sara Di Matelica che chiede i vaccini anti-Covid hanno causato molti casi di miocarditi e pericarditi, è vero oppure è una fake news? Ecco, direi che è buona la seconda, ovvero sia non è una notizia veritiera espressa in questo modo. La domanda in realtà è posta male, perché non è vero che il vaccino ha fatto aumentare il numero di miocarditi e pericarditi. Quello che è successo, ed è la prima volta, direi quasi nella storia dell'umanità e comunque in Italia, dove la platea delle persone vaccinate è stata così grande che una percentuale anche molto bassa è stata percepita. Una percentuale dello 0, su 10 persone è nulla. Una percentuale dello 0, su 100 milioni di dosi, 100 milioni di persone diventa significativa. Per cui l'aspetto è più percettivo che reale. Noi abbiamo una percezione, anche noi medici, abbiamo una percezione di problematiche legate alla vaccinazione, ma è più una percezione che una realtà. E in ogni caso, l'ho detto prima ma ci tengo a ripeterlo, in ogni caso il numero di miocarditi e pericarditi secondarie all'assunzione di vaccino è enormemente inferiore a quelle causate dal virus. Per cui è molto importante che ci sia chiarezza su questo punto. E aggiungo un'altra cosa, è molto importante che ci sia chiarezza anche per i soggetti cardiopatici, perché alcuni cardiopatici, proprio in quanto tali, sono particolarmente spaventati dal dover fare la vaccinazione. Ecco, tranne i casi eccezionali, in realtà è vero il contrario, ovvero sia un soggetto cardiopatico può essere più esposto e per cui deve essere maggiormente protetto. Bene, poi abbiamo Giorgio di Senigallia che dice sono affetto da un prolasso della valvola mitrale, mi hanno detto di fare attenzione dal dentista, è vero? Sì, è vero, l'avevamo accennato anche prima, queste patologie possono in qualche modo rendere nella fattispecie il prolasso della valvola mitrale, quando è reale, rende, come si può dire, la superficie della valvola mitrale più estesa del normale. Questa maggiore, questa variante anatomica, questa anomalia, può esporre questa maggiore superficie all'attacco di agenti patogeni. Ed è per questo che è buona regola per chi ha avuto una diagnosi chiara di prolasso valvolare mitralico a far precedere la visita odontoiatrica, specie se c'è una cura canalare, cioè qualcosa di un po' più invasivo, per esempio da una profilassia antibiotica. Bene, noi ci fermiamo qualche secondo per una piccolissima pausa pubblicitaria, restate con noi torniamo subito. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso, Dental City, il nuovo studio dentistico offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortoniato donzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio e siamo giunti al termine della trasmissione. Ringraziamo il professor Antonicelli e il dottor Menditto per essere stati qui con noi. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Parleremo non solo di Covid, ma bensì di altri virus che il Covid sembra aver cancellato in questi ultimi due anni di pandemia, però purtroppo sono ancora presenti HIV ed epatite. Vi aspetto quindi la prossima settimana, sempre il mercoledì alle 20.50 e la domenica mattina alle ore 11.50. Mi ricordo che potete telefonare alcuni giorni prima la messa in onda della trasmissione, il numero 071 7570 002 oppure 7570 003. Altrimenti potete inviare un'e-mail a canalesalute.it. Mi ricordo inoltre che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti ritrovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!